Per combattere la droga, ma non solo, la repressione non basta, occorre prevenire. È necessario che tutti facciano la propria parte, dalla magistratura alle forze dell'ordine, dalle famiglie al mondo della scuola, dove i ragazzi trascorrono gran parte della loro giornata. Questo appello è stato accorto dall'ISIS Majorana Fascitelli di Sernia, che ha ospitato la prima tappa della campagna informativa Liberi dalle Dipendenze. Il dibattito tra i ragazzi ha preso spunto da un filmato realizzato da Telemolise e che ha coinvolto anche le altre testate giornalistiche regionali. Le testimonianze di chi ha vissuto il problema sulla propria pelle e quelle dei magistrati e dei rappresentanti delle forze dell'ordine ha permesso agli studenti di avere un quadro più chiaro del fenomeno, di essere più consapevoli e perché no, di comprendere che tentare di risolvere il mal di vivere rifugiandosi nello sballo può comportare conseguenze spesso irreparabili. Purtroppo il target si è abbassato in questi ultimi tempi soprattutto, si è passati da un'utenza che più degli adulti ha una fascia scolare, quindi ragazzi preadolescenti, adolescenti, che probabilmente non sono consapevoli dei rischi connessi all'uso di queste sostanze, all'uso combinato di queste sostanze. E allora ecco perché l'incontro odierno, perché intendiamo promuovere un'azione di informazione, un'azione di prevenzione fatta sull'informazione e ribadire ancora una volta la necessità dell'azione sinergica fra scuola, famiglie e territorio in un intreccio di relazioni, in un intreccio di corresponsabilità educativa affinché davvero i ragazzi prendano consapevolezza del problema e siano liberi di scegliere il proprio progetto di vita. La campagna informativa ha trovato pieno sostegno da parte dell'ufficio scolastico regionale. Nei prossimi giorni incontri analoghi saranno proposti anche in altre scuole molisane. È un obiettivo importante da centrale quello di informare i ragazzi sul tema della droga, quindi non bisogna mettere la testa sotto la sabbia, bisogna affrontare il problema e questo progetto lo fa centrando due obiettivi, quindi centrando due strategie. La prima quella di informare correttamente i ragazzi, la seconda quella di creare una forte alleanza educativa sul territorio. Quello di oggi è il primo di questi incontri, ce ne saranno altri anche a Campobasso e a Termoli. Io approfitto dell'occasione per ringraziare Telemolise, in particolare il direttore Emanuela Petescia, per l'ottimo lavoro realizzato e anche gli altri media regionali che hanno partecipato. Ringrazio anche gli altri attori che hanno partecipato al progetto, quindi credo che sia questa la strada da portare avanti per centrare l'obiettivo per informare correttamente i ragazzi.